Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale youtube. Con questo video continuiamo il percorso didattico sulla geografia astronomica iniziato con le leggi di cheplero e con le stagioni astronomiche in questa video lezione parleremo del nostro satellite naturale cioè la luna così come la terra compie un moto di rivoluzione attorno al sole analogamente la luna compie un moto di rivoluzione intorno alla terra la luna così come la terra viene illuminata dal sole quindi in funzione delle reciproche posizioni assunte dal sole dalla terra e dalla luna sono osservabili quelle che vengono definite fasi lunari che nell'antichità erano utilizzate dai popoli per compilare i loro calendari oltre a questo fenomeno si osservano con periodicità le suggestive ed affascinanti eclissi di sole e di luna che oltre per la loro bellezza sono oggetto di importante studio da parte degli astronomi in quanto le loro osservazioni permettono di comprendere meglio la natura degli strati più esterni del sole ma anche lo stato di salute della nostra atmosfera terrestre la luna si muove intorno alla terra in senso antiorario descrivendo un'ellisse che è un po' più schiacciata rispetto a quella terrestre e durante il suo percorso essa si troverà in un punto più vicino alla terra detto perigeo che dista circa 360 mila chilometri e uno più lontano definito apogeo che dista dalla terra circa 405 mila chilometri un importantissimo aspetto che dobbiamo considerare per comprendere il fenomeno dell'eclissi di sole di luna e della loro periodicità sta nel fatto che il piano orbitale lunare non coincide con quello terrestre ma è inclinato di circa 5 gradi e 0,9 primi quindi l'orbita lunare interseca il piano dell'orbita terrestre in due punti che vengono chiamati nodi e la retta che congiunge questi due punti viene chiamata linea dei nodi una delle conseguenze del moto della luna intorno alla terra è l'alternarsi delle fasi lunari queste fasi si ripetono periodicamente con un intervallo di tempo corrispondente al mese sinodico cioè il tempo che intercorre tra due congiunzioni con il sole e dura 29 giorni e mezzo circa anche se di giorno in giorno cambiano le posizioni della luna della terra e del sole in ogni istante la sfera lunare è illuminata al 50 per cento ma non tutto l'emisfero illuminato è sempre visibile dalla terra per spiegare il susseguirsi delle fasi lunari partiamo quando la luna si trova in congiunzione ossia dalla stessa parte del sole rispetto alla terra in questo momento la parte della luna rivolta verso di noi non viene illuminata dal sole e quindi parliamo di novilunio o luna nuova quando la luna è nuova sorge tramonta contemporaneamente al sole e anche per questo motivo non può essere vista dalla terra dopo qualche giorno dal novilunio cominciamo a vedere guardando ad ovest una piccola la porzione di disco lunare a forma di falce quando la convessità della falce è rivolta ad ovest proviene il detto gobba ponente luna crescente questa falce va via via crescendo e dopo circa sette giorni dal novilunio sia la fase del primo quarto detto anche di quadratura in questo caso osserviamo completamente illuminata la metà della superficie lunare rivolta verso di noi continuando le proprie moto dopo circa due settimane la luna si troverà in opposizione cioè dalla parte opposta rispetto alla terra in questo giorno abbiamo la fase di plenilunio o luna piena in questo momento tutto l'emisfero illuminato è visibile della terra in plenilunio la luna sorge quando il tramonta il sole anche in questo caso continuando nel proprio moto cominciamo a vedere una piccola porzione di disco lunare oscurata e a forma di falce che va sempre più crescendo di larghezza sino ad arrivare dopo circa 22 giorni ad una posizione detta ultimo quarto o quadratura come nel primo quarto osserviamo completamente illuminata la metà della superficie lunare rivolta verso di noi quando la convessità è rivolta ad est abbiamo l'altro detto gobba levante luna calante dopo circa 29 giorni e mezzo si ripete il ciclo altra conseguenza del moto di rivoluzione della luna attorno alla terra è il fenomeno dell'eclissi se il sole la terra e la luna si trovassero sul medesimo piano assisteremo durante ogni mese lunare ad un eclissi di sole quando la luna è in congiunzione e a un eclissi di luna quando questa è in opposizione ciò non avviene perché come detto in precedenza il piano dell'orbita terrestre e quello dell'orbita lunare non sono coincidenti bensì inclinati uno rispetto all'altro di 5 gradi e 0 9 primi quindi il perfetto allineamento tra sole terra e luna si può verificare solamente lungo la linea dei nodi cioè l'intersezione tra il piano orbitale terrestre e quello lunare perciò le eclissi si verificano soltanto quando sono soddisfatte contemporaneamente due condizioni la prima è che la luna sia in fase di novilunio o di plenilunio la seconda è che la luna debba trovarsi in uno dei due nodi o in prossimità di uno di essi consideriamo le modalità attraverso cui si verificano i fenomeni dell'eclissi di luna quando una sfera opaca viene colpita da una sorgente luminosa non puntiforme nel nostro caso il sole dà origine a un cono di ombra e uno di penombra le cui dimensioni dipendono dal diametro della sorgente luminosa dal diametro della sfera opaca e dalla loro distanza l'eclisse risulta totale per tutti i punti compresi nella zona di ombra e parziale per quelli situati nella zona di penombra abbiamo eclissi di luna quando sono allineati nell'ordine sole terra e luna poiché l'ombra proiettata dalla terra si estende sino a una distanza più che tripla rispetto alla distanza terra luna essa sarà sufficiente per eclissare completamente la luna quando la luna entra nel cono di penombra l'eclissi è da prima parziale e quindi non molto appariscente mentre quando la luna entra nel cono di ombra diventa totale il disco lunare però non scompare del tutto nemmeno durante l'eclissi totale e si mostra sia pur debolmente illuminata con un caratteristico colore rosso rame dovuto all'atmosfera terrestre che rifrange e diffonde la luce solare la durata massima di un eclissi totale è di circa un'ora e 40 minuti mentre la durata complessiva non supera le tre ore e i 40 minuti l'eclissi di luna sono spesso totali e si possono osservare contemporaneamente in tutti i luoghi della terra nei quali la luna si trova al di sopra dell'orizzonte come abbiamo precedentemente detto assistiamo ai fenomeni di eclissi solare quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni la prima condizione è che la luna debba essere in nobilunio cioè in opposizione la seconda è che essa si trovi in uno dei due nodi o in prossimità di uno di essi in questo caso la luna è interposta tra il sole e la terra e proietta la propria ombra su quest'ultima l'ombra proiettata dalla luna alla forma di un cono costituito da una zona di ombra e una di penombra esistono tre tipologie di eclissi solare le eclissi parziali le eclissi totali e le eclissi anulari l'eclissi parziale detta anche non centrale si verifica quando l'allineamento sole luna e terra non è perfetto questo perché il sole e la luna non si trovano in uno dei due nodi ma in prossimità di uno di essi pertanto il cono d'ombra generato dalla luna giunge a sfiorare in maniera decentrata la superficie terrestre senza riuscire a raggiungerla in questo caso non è possibile osservare il completo oscuramento del disco solare da nessun luogo della superficie terrestre e si osserva a un eclisse parziale osservando un eclisse parziale di sole la massima copertura del disco solare sarà tanto maggiore quanto più vicina alla terra risulterà essere il cono d'ombra generato dalla luna l'eclisse totale di sole avviene quando sole luna e terra si trovano in uno dei due nodi e quindi quando sono perfettamente allineati in questo caso la luna è abbastanza vicina alla terra e le sue dimensioni apparenti sembreranno maggiori di quelle del disco solare e l'ombra lunare più lunga si verifica quando la luna si trova alla minima distanza dalla terra cioè in perigeo il colo d'ombra della luna riesce a raggiungere la superficie terrestre dove forma un cerchio all'interno del quale l'eclisse sarà visibile come totale e tale porzione di superficie terrestre viene chiamata fascia di totalità l'osservatore che si trova nel cono di penombra vedrà invece un eclisse parziale e in alcuni casi l'eclisse potrebbe non essere addirittura visibile a causa delle notevoli dimensioni del sole l'eclisse totale interessano porzioni piuttosto ristrette della superficie terrestre il diametro massimo dell'ombra lunare sulla superficie terrestre è di circa 270 chilometri e perciò le eclissi totali interessano sempre una piccola porzione della terra durante l'eclisse totale si può notare quello che viene chiamato effetto anello di diamante della durata di pochi secondi il cui nome è dovuto al fenomeno ottico luminoso che avviene nella corona solare in prossimità del bordo lunare l'effetto diamante è costituito da un grande grano di beli che all'osservatore terrestre appare come un anello con un grande scintillio del suo diamante l'eclisse anulare di sole si genera quando sole luna e terra si trovano anche in questo caso perfettamente allineati quindi in uno dei due nodi perché ciò avvenga la luna deve essere abbastanza distante dalla terra in modo che le sue dimensioni apparenti appaiono minori di quelle del disco solare e perché ciò si realizzi la luna deve trovarsi alla massima distanza della terra cioè in apogeo in questo caso il cono d'ombra generato dalla luna non riesce a raggiungere la superficie terrestre e pertanto nel momento del perfetto allineamento tra sole luna e terra rimane sempre visibile un sottile cerchio di sole attorno al disco lunare e questa sottile porzione viene chiamata anello di fuoco anche questo tipo di eclissi è osservabile lungo una fascia che in questo caso viene chiamata fascia di annularità al di fuori della quale l'eclissi è sempre percepita come parziale o addirittura invisibile le eclissi annulari sono molto importanti per gli astronomi in quanto è possibile eseguire interessanti osservazioni sugli involucri più esterni del sole il fenomeno dell'eclissi si può osservare per un periodo limitato di tempo e può superare i sette minuti e mezzo per un eclisse totale mentre può raggiungere anche i dodici minuti e mezzo per un eclisse anulare perché in questo caso la luna si trova ad una maggiore distanza dalla terra e quindi si sposta assieme alla sombra con una velocità minore la durata dell'eclissi può raggiungere un tempo complessivo di circa quattro ore dal momento in cui incomincia a vedersi da un certo luogo della terra fino a quando non si può più osservare da nessun punto della superficie terrestre grazie a tutti